Musica Benvenuti a questo nuovo appuntamento di TG Media News con riepilogo delle principali notizie della settimana. Cominciamo da lunedì 30 dicembre. Finanziaria, ritirato articolo su case abusive. Governo battuto ancora una volta. Sentiamo. Si stoppa in commissione bilancio all'Arso un articolo della legge finanziaria che rischiava di sanare numerosi edifici abusivi in Sicilia, anche in zone protette e perfino in riva al mare. Tutto grazie ad un emendamento del Movimento 5 Stelle a firma di Giampiero Trizzino che ha portato al ritiro della norma da parte del Governo dopo un breve dibattito tra commissari e componenti della Giunta. È un ottimo risultato a difesa del paesaggio siciliano che blocca una possibile speculazione edilizia, ha commentato Trizzino. Nonostante la sua nobile finalità, la norma non prevedeva alcuna limitazione per quegli immobili realizzati in zone sulle quali insiste un vincolo paesaggistico o di inedificabilità assoluta, quali terreni a 150 metri dalla costa, zone limitrofe e boschi, siti in interesse comunitari e così via. La norma, cassata dalla finanziaria, prevedeva che le case costruite abusivamente venissero concesse ai comuni per destinarle ad alloggi popolari dopo essere state acquisite al patrimonio pubblico. L'amministrazione comunale di Altavilla Milici ha presentato in accordo con il Santuario di Ocesiano il progetto per il nuovo carro triunfale. L'argomento verrà approfondito nella rubrica Settimana, i comuni informano. Intanto ascoltiamo padre Liborio Scordato e il sindaco Nino Parisi. Il carro simbolo della festa di Altavilla Milici è diventato anziano e quindi dopo aver percorso per tanti decenni, forse per secoli, non so, le strade del nostro paese gli spetta il meritato riposo. non è più in grado di percorrere le strade del nostro paese, pertanto l'amministrazione civica, attenta alle problematiche della festa della Madonna della Milicia, ha pensato di intervenire con i suoi modi, praticamente con le sue possibilità di intervenire per rifare questo carro. Ma non rifare questo perché sarebbe come un abito rattoppato tante volte e finisce che poi non si può più usare. Si sta facendo appunto un carro ex novo, mantenendo esattamente lo stile e la misura di quello vecchio. Diciamo che è un progetto per un nuovo carro triunfale che riprende, come ha detto giusto poco, anzi il parroco, quello che è lo stile del carro vecchio e anche le misure. Quel carro naturalmente andrà in pensione, parlavamo poco fa col parroco proprio di questo, di trovare un sito ideale dove poter fare un museo e esporlo, visto che di anni ne ha parecchie sulla groppa. L'amministrazione ha potuto notare che non c'era un elaborato progettuale del carro, quindi nella malaugurata ipotesi che questo carro andasse disperso per un motivo qualsiasi, sarebbe stato davvero difficile ricostruirlo alla stessa maniera. Per questo abbiamo impegnato, ringraziando a Dio nell'amministrazione ci sono dei tecnici come l'architetto Lobosco, il geometra Petrangosta che è quello che ha redatto il progetto, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista culturale, storico, l'architetto Lobosco si è occupato, i calcoli e la meccanica sono state affidate all'ufficio tecnico, motivo per cui non è costato esattamente nulla ai nostri contribuenti e nello stesso tempo a futura memoria avremo anche un elaborato progettuale, mediante il quale non si sanno mai le cose della vita, avremo sempre la possibilità di poterlo rifare. E passiamo a martedì 31 dicembre, tabella H, via libera ai fondi per le attività culturali, vediamo. La delibera dell'Aggiunta regionale dello scorso 9 dicembre ha destinato all'assessorato dei beni culturali risorse per oltre 1.600.000 euro da ripartire tra i richiedenti dell'ex tabella H. Le richieste pervenute sommavano importi stimati, ammissibili per oltre 4 milioni di euro, relativi a 63 soggetti valutati come finanziabili. I soggetti richiedenti a relativi programmi di attività sono stati preliminarmente valutati da una commissione nominata dall'assessore che al termine dei lavori ha elaborato due elenchi di soggetti ammissibili a contributo. Un primo elenco riguardante i soggetti aventi priorità in quanto destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi. Un secondo elenco riguardante gli altri soggetti. Entrambi gli elenchi hanno compreso soggetti qualificati al minimo con punti 70 di valutazione, ovvero il punteggio minimo per accedere al contributo. Ho sempre pensato, ha commentato l'assessore Maria Rita Sgarlata, che la tabella H sia un non-sense che ha creato una casta di fondazioni, enti e associazioni che hanno goduto, spesso immeritatamente, di fondi regionali, mentre sono rimaste fuori attività di nuova formazione che avrebbero meritato una diversa considerazione. L'esito del lavoro della commissione mi consente di correggere il mio punto di vista, dato che le valutazioni sono andate nella direzione meritocratica che avevo auspicato. Attività produttive. La Giunta di Palermo ha approvato un atto di indirizzo per il progetto Saracinesche Aperte, contributi previsti per il recupero di locali del centro storico. La Giunta Comunale di Palermo ha approvato un atto di indirizzo per l'avvio del progetto Saracinesche Aperte, finalizzato al recupero dei locali su strada destinati ad attività commerciali ed artigianali diurne che siano compatibili con il tessuto del centro storico. È stato deciso di avviare un percorso partecipativo condiviso con la prima circoscrizione e le associazioni di categoria. Saranno i capi area della gestione del territorio e dello sviluppo economico ad individuare e coordinare un gruppo di lavoro composto da funzionari per la redazione di un apposito regolamento comunale per la concessione di contributi che sarà successivamente sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale. L'erogazione dei contributi dovrà essere disciplinata da norme che individuino in forma trasparente le tipologie e le entità delle agevolazioni, le modalità di attribuzione ed erogazione, le categorie dei beneficiari e le condizioni per poter ottenere i benefici. L'erogazione di contributi per il recupero residenziale, ha detto il sindaco Le Luca Orlando, ha determinato negli ultimi anni un graduale ripopolamento del centro storico accompagnato dal recupero del tessuto edilizio urbano, ma non dallo sviluppo del commercio e dell'artigianato locale che hanno subito invece una inversione di tendenza. Lo scopo dell'iniziativa, ha detto invece l'assessore alle attività produttive Marco Di Marco, si pone in coerenza con gli obiettivi strategici che l'amministrazione comunale ha avviato attraverso il programma integrato di interventi strutturali volti allo sviluppo economico della città e del centro storico. GESIP, firmato accordo fra il comune di Palermo e di sindacati per la cassa integrazione in deroga. Firmato l'accordo per la cassa integrazione dei 1740 lavoratori GESIP in attesa di avviare le trattative con comune di Palermo e Ministero per l'integrazione al reddito. L'accordo garantisce sei mesi di cassa integrazione da domani al 30 giugno. Subito dopo aver ottenuto la firma da parte dei sindacati sull'accordo, il sindaco Leoluc Orlando ha convocato il tavolo tecnico per il prossimo 3 gennaio. Le trattative si erano interrotte la scorsa settimana, quando il comune aveva chiesto ai sindacati di firmare per la cassa integrazione, anche in assenza dell'accordo per il sostegno al reddito. Temendo che, come parzialmente accaduto con l'accordo di maggio scorso, i lavoratori restassero poi con la sola cassa integrazione, i sindacati si erano rifiutati di firmare. La risposta dell'amministrazione era stato l'avvio delle procedure di licenziamento di tutti i lavoratori. I sindacati quindi, anche su pressione degli stessi lavoratori, hanno deciso per la firma dell'accordo con la cassa integrazione scollegato dal piano di ristrutturazione GESIP. Ha prevalso il buon senso e ora si apre la possibilità di un dialogo costruttivo che comprende tutte le partecipate, ha detto Orlando, con l'attenzione al reddito dei lavoratori e alla qualità dei servizi che il sistema delle partecipate deve offrire alla città. Il 2014 è iniziato con un nuovo salvataggio di migranti. Avvistati a circa 80 miglia di Lampedusa, sbarcheranno questa sera al porto di Agusta. Un'imbarcazione di una decina di metri con a bordo 233 migranti, tra quali anche 7 donne, è stata localizzata e soccorsa dalle unità della Marina Militare e dagli elicotteri del dispositivo Mare Nostrum a circa 80 miglia a sud di Lampedusa. La barca di circa 10 metri è stata localizzata intorno alle 19.30 di ieri e subito sono partiti i soccorsi da parte delle unità militari San Marco e Urania con mare Forza 3 e vento da nord-ovest a otto nodi. Il mare mosso e il gran numero di persone a bordo è indotto a dichiarare lo stato di emergenza e poco dopo l'evento i migranti provenienti da Eritrea, Nigeria, Somalia, Pakistan, Zambia e Mali sono stati trasportati a bordo della nave San Marco. Soccorsi assistiti, gli occupanti del barcone sono stati successivamente trasferiti a bordo della fregata Zeffiro e su indicazione del Ministero degli Interni trasferiti nel porto di Agusta, in provincia di Siracusa, dove l'arrivo è previsto per questa sera. Capodanno ha funzionato la macchina della RAP per rimuovere rifiuti. Operatori ecologici in azione in tutte le vie del centro di Palermo. Gli operatori della RAP si sono fatti trovare pronti per la pulizia straordinaria dopo i festeggiamenti nella notte di Capodanno. Le energie maggiori sono state concentrate nelle aree dove i festeggiamenti si sono svolti nelle pubbliche piazze, nella fattispecie Piazza Politeama. In azione per le attività di spazzamento, svuotamento, cestini, gettacarte e raccolte rifiuti 25 operatori di RAP che con l'ausilio di 6 autocarri a Vasca, un minicompattatore e un autocompattatore hanno prelevato circa 10 tonnellate di rifiuti. Molto utili si sono dimostrati i binoni carrellati posizionati la mattina in prossimità di Piazza Politeama perché hanno consentito di essere utilizzati da chi festeggiava per gettare bottiglie, bicchieri e tovaglioli. Successivamente alle attività di spazzamento manuale per definire gli interventi è stata messa in campo una spazzatrice ed un'innaffiatrice lavastrade che è intervenuta anche sull'asse di Via Libertà e Via Limitrof. Un ulteriore gruppo di 35 operatori ha provveduto a pulire Via Macheda, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Pretoria, Piazza San Domenico, Via Emerico Amari, Via Turati, Via Maiocco, Via Principe di Belmonte, Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Aldomoro, Via Barallo Livella, Zonia Diacenti, Via Cavour, Piazza Verdi, Piazza Indipendenza, Piazza della Pinta e Via Libertà da Piazza Vittorio Veneto a Via Notarbartolo. Le attività di spazzamento e svuotamento cestini hanno interessato anche Mondello e Sferracavallo e hanno visto impegnati 15 operatori nello specifico su Piazza Mondello, Via Piano di Gallo, Via Torre di Mondello, Via Teti, Via Regina Elena, Piazza Partanna Mondello, Via Partanna Mondello e le piazze di Sfera Cavallo. Passiamo a venerdì 3 gennaio. Domani inizia all'Ars l'esame di bilancio e finanziaria, previsti oltre un migliaio di emendamenti. Da domani a mezzogiorno l'Aula comincerà ad affrontare bilancio e finanziaria. Oggi scade il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti. 400 solo da parte del PDL, ma è probabile che alla fine supereranno il migliaio. In ogni caso, con o senza emendamenti, il bilancio e la finanziaria sono comunque a rischio. I tempi sono stretti per evitare un esercizio provvisorio che creerebbe gravi problemi alla norma per la proroga dei precari, ma non solo quella. Secondo le opposizioni, con te il governo non tornerebbero, al bilancio mancherebbero 500 milioni di euro per il pareggio, soldi compensati sulla carta con entrate fittizie o almeno ottimistiche. Per il governo, bilancio e finanziaria, se anche passassero così come sono, sarebbero solo il primo scoglio. Dopo il resteranno nel migliore dei casi, una trentina di giorni per la legge di riforma delle province e dopo il rimpasto di giunta. L'Udc di Giampiero D'Alia, pronto d'alleanza a destra a livello nazionale già da qualche mese, ormai ha mollato l'ancore e chiesto ufficialmente al Presidente della Regione di aprire il nuovo centrodestra di Angelino Alfano. Un'apertura oggi ad Alfano e Soci potrebbe garantire a Crocetta quei voti che mancano alla maggioranza e la cui assenza ha causato la bocciatura della norma per la proroga dei commissari della provincia. Ma Crocetta accetterà di dipendere da questa nuova possibile maggioranza? Si apre uno spiraio nelle indagini sulla latitanza del boss Matteo Messina Denaro. Parla l'imprenditore Lorenzo Cimarrosa. La mia azienda è stata per anni il suo banco, Matt. Nuovi scenari sulla latitanza del boss Matteo Messina Denaro. L'omertà attorno alla latitanza del nuovo numero uno di Cosa Nostra inizia ad essere scalfita. A parlare è l'imprenditore Lorenzo Cimarrosa che ha spiegato ai magistrati di essere stato lui a finanziare il boss e la sua famiglia. L'imprenditore, la cui moglie e cugina del super boss, uno degli uomini più fidati di Messina Denaro, era stato arrestato nel blitz del 13 dicembre scorso. Sono esasperato dai continui arresti, dalle perquisizioni e dai sequestri che fate a Messina Denaro, avrebbe detto il collaboratore Carabinieri del Ross. I magistrati Paolo Guido, Marzia Sabella e Teresa Principato hanno spiegato il ruolo dell'imprenditore all'interno dell'organizzazione. Negli ultimi mesi Cimarrosa avrebbe fatto avere al super boss circa 60.000 euro, 8.000 soltanto nel mese di dicembre. La sua azienda, l'MG Costruzioni, intestata ai figli ed aggiudicataria di rilevanti appalti nel Trapanese, è considerata dal boss come una sorta di bancomat. E questa era l'ultima notizia. Vi do appuntamento alla prossima settimana con il riepilogo delle principali notizie. Vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata sulla nostra rete. Grazie.